ammirevole questo è l'aggettivo che possiamo impiegare per definire il coraggio di padre cristoforo il quale si è presentato nel palazzotto di don rodrigo ha dovuto assistere suo malgrado in attesa che il padrone di casa gli riservasse del tempo per un colloquio ha dovuto assistere ad un banchetto a cui siedono oltre a don rodrigo anche il cugino attiglio anche a zecca garbugli il podestà e altri presenti ospiti che sono ovviamente tutti predisposti ad assentire mentre ci si intrattiene parlando di questioni sociali politiche trattando anche di questioni di cavalleria ad un certo punto don rodrigo realizza che fra cristoforo non accenna ad andarsene e decide dunque di affrontarlo e così si apre il capitolo sesto con don rodrigo che pronuncia la frase in che posso ubbidirla parla di obbedienza ma in realtà si è piantato in piedi nel mezzo della sala e il suo tono sembra dire bada a chi sei davanti pesa le parole e sbrigati padre cristoforo ha un'importante missione da compiere è una missione da cui dipende la possibilità che don rodrigo receda dai suoi propositi iniqui infatti dice vengo a proporle un atto di giustizia perché certi uomini di malaffare hanno messo innanzi il nome di vostra signoria illustrissima e poi bofonchia delle parole che hanno a che fare con la coscienza l'onore nel senso che padre cristoforo deve procedere con i piedi di piombo come si usa dire perché deve guardarsi bene dal rischio che la conversazione che il colloquio degeneri in un in un confronto serrato in un litigio in realtà l'impresa è difficile perché da un lato abbiamo un uomo di chiesa che si spende in difesa a protezione dei deboli che richiama il dio che guarda sempre dall'alto ai poverelli che si che agli occhi sopra di loro mentre invece dall'altra abbiamo un uomo che obbedisce a tutt'altra logica per il quale riferimento agli occhi di dio sono per lui come un richiamo al fatto che padre cristoforo venga a fargli la spia in casa lo sguardo umano contrapposto allo sguardo di dio evidentemente non intende le parole di fra cristoforo il quale di fronte a questa sua chiusura ma anche a questo suo modo poco garbato gli dà della spia in fondo e più sotto gli dice anche che non è certo nella condizione lui don rodrigo di avere addirittura il predicatore in casa quindi gioca a provocarlo e manzonia nota come da prima padre cristoforo si atteggi a sommissione ma poi invece inizi ad infiammarsi e tuttavia in nome della missione che ha da compiere inghiotte una medicina amara lo dice il narratore con una similitudine in don rodrigo cresce la stizza il dispetto per sentire certi discorsi e addirittura insinua che a padre cristoforo stia a cuore una fanciulla ci deve essere qualche fanciulla che le preme molto il che fa cambiare atteggiamento a padre cristoforo perché è una provocazione troppo forte perché egli non reagisca infatti il nostro frate gli si era messo davanti gli blocca la strada gli impedisce di porre fine al colloquio qui si capisce che padre cristoforo non è don abbondio non è quel vile prete che fa di tutto per sottrarsi all'incontro a cui è destinato con i bravi mentre era in casa alla sera no padre cristoforo è andato deliberatamente a casa dell'aggressore e cerca in nome della misericordia misericordia di dio di riportarlo sulla retta via di farlo recedere e la situazione volge al peggio nel momento in cui don rodrigo consiglia a fra cristoforo di far venire da lui quella fanciulla a mettersi sotto la sua protezione e a questo punto che fra cristoforo non ci vede più la sua indegnazione la sua ira traboccò dice manzoni che l'uomo vecchio si trovò d'accordo con il nuovo l'antica natura che era quella focosa di chi si inalberava di fronte alle ingiustizie di chi reagiva prontamente come era nel costume dell'epoca coincide con la natura di adesso che quella ormai remissiva votata all'umiltà fra cristoforo si pianta davanti a don rodrigo alza il braccio sinistro l'indice è teso verso il suo interlocutore gli pianta in faccia due occhi infiammati e gli dice che ha superato il segno avete colmata la misura e non vi temo più come parli frate don rodrigo è passato al tu ma fra cristoforo non si intimorisce è precisa che parla lui come si parla a un uomo che sia stato abbandonato da dio e fa il nome di lucia lo fa con la fronte alta e con gli occhi immobili e dice ancora che ha compassione della casa di don rodrigo perché gli sta sopra sospesa la maledizione ma la giustizia di dio non tarderà a compiersi verrà un giorno puntini puntini e a questo punto la telecamera si sposta e vediamo inquadrato don rodrigo cogliamo il suo atteggiamento e attonito sospeso tra la rabbia e la meraviglia tra la rabbia e un lontano e misterioso spavento suscitato da quelle parole da quella profezia verrà un giorno ma prontamente egli reagisce reagisce nel modo in cui lui sa esprimersi nelle situazioni di difficoltà lo insulta addirittura gli dice villano temerario gli dice di uscire dai suoi piedi gli dice anche di che deve ringraziare il saio che lo ricopre perché altrimenti chissà quale carezze che si fanno ai pari di fra cristoforo gli sarebbero arrivate esci con le tue gambe per questa volta e la vedremo carezze ovviamente è antifrastico allude invece alle percosse alle botte ai maltrattamenti che risparmia a padre cristoforo ora nel rispetto del suo abito e padre cristoforo capisce di essersi spinto oltre abbassa il capo e rimase immobile come al cadere del vento nel forte della burasca un albero agitato ricompone naturalmente i suoi rami e riceve la grandine come il ciel la manda dunque fra cristoforo prima è sommesso poi reagisce e poi ritorna nel suo atteggiamento di chi accoglie accetta quello che si avventa quello che si scatena la similitudine della grandine eloquente contro di lui esce e intanto don rodrigo dice il narratore rimane a misurare a passi infuriati il campo di battaglia a questo punto c'è un breve intermezzo giusto il tempo perché padre cristoforo possa fare un incontro che gli sarà di seguito d'aiuto infatti si accosta a lui un vecchio servitore che era ormai da più di 40 anni al servizio della casa di don rodrigo e che aveva incominciato inizialmente ad essere al servizio del padre di don rodrigo il quale è stretto tra due paure da una parte la paura del suo padrone e dall'altra la paura di non potersi salvare l'anima quindi una paura più alta che riguarda il suo destino questo servitore vuole incontrare padre cristoforo e pertanto si danno appuntamento nel convento di pescarenico per il giorno seguente rimaniamo in attesa di nuovi sviluppi il narratore si chiede se il vecchio servitore abbia fatto bene o meno ad origliare lascia il giudizio al lettore dice noi non intendiamo di dar giudizi ci basta di aver dei fatti da raccontare inutile sottolineare come per padre cristoforo ormai sulla via del ritorno l'incontro col vecchio servitore abbia rappresentato un gran ristorativo cioè un segno visibile della protezione del cielo intanto nella casa di lucia alla presenza di renzo agnese avanza la sua proposta del matrimonio a sorpresa perché ha saputo da altri casi di conoscenti che non è necessario il consenso del parroco perché il matrimonio sia convalidato ma basta la sua presenza e allora bisognerà agire con cuore e con destrezza espressione che mette subito a disagio lucia perché lucia non ha la mentalità spicciola non ha l'idea dell'intraprendenza che connota invece i suoi due interlocutori lucia sa solo uscirsene con delle espressioni come ma come possibile non bisogna farlo lucia non sa mai capacitarsi ritiene che questa proposta presupponga si realizzi in imbrogli mentre invece dal suo punto di vista è importante agire con fede perché sa che dio gli aiuterà situazioni completamente opposte due punti di vista differenti certo è che una volta realizzato il matrimonio per renzo sarà possibile rifugiarsi nel bergamasco dove suo cugino potrà sicuramente ospitarlo e dove egli potrà esercitare come artigiano ma è importante anche in questo momento pensare a due testimoni la cui presenza è fondamentale perché il matrimonio possa dirsi effettivamente tale due testimoni e poi soprattutto il cuore destrezza espressione l'ho detto che ritorna è legato al fatto che il parroco in questa circostanza sicuramente si comporterà come proteo che quella divinità marina che per non essere catturato proteo aveva la capacità di vinatori la capacità di previsione del futuro ogni volta cambiava aspetto e pertanto non si era mai in grado di catturarlo questa è una similitudine che appartiene alla cultura della voce narrante un'altra simile ma non meno eloquente è quella fatta da agnese quando dice che si sa bene che bisognerà agire con destrezza perché don abbondio diventerà lesto come un gatto e scapperà come il diavolo dall'acqua santa il lettore già prefigura la scena di don abbondio che cercherà di sgusciare via di sottrarsi a questo momento in cui la sua presenza sarà suo malgrado fondamentale lucia non è convinta non capisce perché a padre cristoforo non sia venuto in mente un'idea del genere non vede perché non parlarne a padre cristoforo anche renzo ha qualche dubbio perché dice come può essere che non stia bene e che sia ben fatta quando è fatta non è chiaro la risposta di agnese non è così sollecita rispetto alle obiezioni legittime di renzo e di lucia ella si limita ad osservare come noi poverelli non possiamo capire tutto le tribolazioni aguzzano il cervello e così renzo considera che come testimoni si potrebbero prestare benissimo tonio e il fratello gervaso la scena a cui assistiamo ora nel capitolo è una scena di povertà di una famiglia numerosa madre fratello la moglie di tonio a tavola tre o quattro ragazzetti ritti attorno al babbo stavano aspettando con gli occhi fissi al paiolo che venisse il momento di scodellare una polenta questa polenta e il cibo non è però motivo di gioia non c'è il narratore annota quell'allegria che di solito si rinviene nel momento del pasto perché la mole della polenta era in ragione dell'annata e non del numero e della buona voglia dei comensali e ognuno di essi fissando con uno sguardo bieco d'amor rabbioso la vivanda comune pareva pensare alla porzione d'appetito che le doveva sopravvivere molto efficace questo quadro interno di una casa in cui c'è fame e non c'è il necessario per soddisfare questa fame per cui quell'espressione amor rabbioso quello simoro riferito al calcolo della sproporzione tra quanto grande è la fame e quanto ancora ne rimarrà quando renzo sopraggiunge con l'intenzione di portare con sé tonio all'osteria per parlare dei loro affari lo sguardo di tutti è uno sguardo di sollievo perché annota il narratore veniva così sottratto alla polenta un concorrente il più formidabile vale a dire allusivo sottointeso resta che evidentemente al padre spettasse una parte considerevole di quel poco che c'era da spartire e nell'osteria la situazione non è differente perché è in perfetta solitudine una situazione desolante non c'erano molti avventori renzo entra subito in argomento e ricorda che tonio è in debito con don abbondio gli deve infatti 25 lire e fa sorridere si sorride spesso in questo capitolo pensando alle figuracce di don abbondio dice che don abbondio talvolta proprio durante la predica a messa gli fissa gli occhi addosso e tonio teme che davanti a tutti gli ricordi il debito che gli deve pagare e allora a questo punto è fatta renzo si dichiara disponibile a procurare a tonio le 25 lire per pagare il debito ma in cambio necessita di un appoggio di una collaborazione per la faccenda del matrimonio a fianco a tonio figurerà il fratello gervaso che è un sempliciotto e che sarà davvero una figura spassosa nella scena concitata del tentativo anticipo del matrimonio a sorpresa nel frattempo agnese cerca di persuadere la figlia la quale resiste dice il manzoni lucia tentennava mollemente ritorna renzo si fa presente che c'è ancora un possibile intoppo che la presenza di perpetua ma agnese saprà quali cordie toccare quali argomenti toccare per tenerla impegnata e ancora lucia si dimostra ostinata lucia va persuasa va convinta che non è un peccato lucia dice renzo io voglio essere vostra moglie per la strada diritta col timore di dio all'altare lasciamo fare a quello lassù e non è disposta a scendere a codeste furberie ma bando alle ciance perché sta per entrare in scena padre cristoforo che deve riferire dell'esito della sua ambasceria c'è giusto il tempo che agnese sussurri all'orecchio di lucia vada bene di non dirgli nulla